Ciao ragazzi da ORAC, oggi vorrei mostrarvi il Poison Necro una delle build più forti di Diablo 2 e allo stesso tempo versatile perchè ha diversi slot facilmente adattabili senza per forza avere pezzi costosi endgame e oltretutto si adatta facilmente al Magic Find ciò che quindi rende questa build tra le più performanti è appunto la versatilità al Magic Find accompagnata dalla potenza dei danni ad area e il tipo di danni che facciamo mentre siamo abbastanza safe al sicuro cioè ben 3 elementi chiaramente la nostra fonte di danni principali sarà Poison Nova alla quale assegneremo 20 punti e 20 punti alle sue sinergie che sono Poison Dagger e Poison Explosion per quanto riguarda Poison Nova è un'abilità che non va assolutamente spammata perchè è un DOT quindi essendo un DOT tickerà due volte come potete leggere dalla descrizione over 2 seconds quindi si applica nell'arco temporale di 2 secondi per quanto riguarda invece le maledizioni assegneremo almeno un punto al ramo di destra e a quello centrale questo perchè ciò che ci interessa molto è arrivare a Lower Resist che abbassa le res dei nemici attenzione però non tutte quindi non Magical e Fisica e non c'è bisogno di maxarla perchè col Gear già le abbassiamo notevolmente infatti vedrete nel Gear ho diversi gioielli che abbassano la resistenza nemica comunque dopo ci arriviamo e comunque tra Skiller sul Gear e altro la facciamo già arrivare ad un livello molto alto fatto questo quindi arrivare a Lower Resist maxare le sinergie e poi Sonnova si aprono due scuole di pensiero c'è chi maxa Corp Explosion e c'è invece chi si butta sul ramo delle evocazioni e maxa Raise Skeleton nel primo caso non aumenta il danno bensì solo il radius nel secondo caso invece arriviamo a mettere minimo 8 scheletri quindi arrivando al livello 20 diciamo poi chiaramente con gli Skiller e il Gear arriviamo a livelli molti più alti ad esempio io qui ho 36 e questo diciamo aumenterà i nostri muri più gente più target abbiamo a nostro favore e difficilmente verremo colpi di noi diciamo che sta a voi provarlo per quanto mi riguarda considerando che in endgame si hanno 6-7 Poison Skiller nel Gear nell'inventario che dopo vediamo che alzano Corp Explosion chiaramente noi lo mettiamo per Poison Nova però al tempo stesso buffa tutto quindi buffa anche Corp Explosion forse ha più senso aumentare la nostra armata di scheletri altrimenti se preferite andate di Corp Explosion maxato però vi ricordo che aumenta il range enzi parliamo di Corp Explosion per quanto riguarda questa skill c'è una cosa importante da dire quindi come vedete il danno è in percentuale 70-120% ebbene questa percentuale si applica solo sulla vita base dei mob questo significa che se noi siamo in un gruppo in un party da 8 quindi in Players 8 non verrà applicata questa percentuale 70-120% sugli HP aumentati dovuti al numero di giocatori in game questa cosa però non ci deve spaventare perché è una skill che fa già molti danni quindi diciamo che da 1-2 colpi passeremo a massimo 4-5 la skill di per sé fa appunto 70-120 ma molte cose ci aiutano ad esempio se vediamo Amplify Damage questa qui questa incrementa del 100% la parte fisica quindi aggiungete un 35-60% e siamo già sui 105-180 a questo punto interviene anche l'infinity che abbiamo sul mercenario che toglie 85% all'altra metà del danno e aggiungerà all'incirca un altro 30-51% per un totale diciamo di 135-231% quindi rimane comunque una skill assolutamente fortissima assegneremo anche dei punti base nel ramo delle evocazioni sicuramente un punto per arrivare a sbloccare revive e un punto per arrivare a sbloccare l'iron golem e vorremmo anche arrivare a sbloccare summon resist quindi rinforzare le esistenze delle nostre evocazioni a proposito dell'iron golem l'iron golem si evoca creandolo su un oggetto in particolare ne acquisirà quindi le caratteristiche vi faccio vedere assolutamente subito un esempio allora abbiamo qui una scorta di insight diciamo l'iron golem persiste nei game ma attenzione che se muore uno dei due cioè noi o lui va ricreato da capo quindi voi vi fate una scorta di insight che tanto comunque sono facili da fare cercate appunto di fare in modo che se lo mettete in campo difficilmente muoia ecco allora eterea o non eterea non cambia nulla cambia solamente che se lo faccio con l'insight eterea avrà la skin diciamo normale se lo faccio con l'insight eterea avrà la skin trasparente dai vi faccio subito vedere con quella trasparente allora lo buttiamo per terra e mettiamo il cursore sopra insight e poi lo evochiamo ecco qui il nostro iron golem che quindi con insight grazie a insight ci ricaricherà il mana sarà la nostra fonte di rigenerazione di mana per quanto riguarda poi lo skill tree centrale da non dimenticare l'importanza di bone armor a cui daremo un punto il resto ce lo daranno gli skiller perché anche questa viene pompata dagli skiller che abbiamo sul gear e nell'inventario grazie ai charmoni assegneremo anche qualche punto in bone wall perché ci potenzia bone armor paradossalmente guardate bone armor passando da un livello a un livello successivo aumenta di 10 guardate absorb 315 livello dopo 325 quindi in realtà per potenziare bone armor è più conveniente potenziare la sinergia bone wall vedete più 15 quindi c'è quel più 5 che fa la differenza quindi voi mettete qualche punticino anche in bone wall io ne ho messi 3 e quindi ecco questo è un piccolo trucchetto meglio pompare questo prima le sinergie che bone armor benissimo allora in early game chiaramente è meglio non startare direttamente dal lato veleno andremo con tit i primi 5 livelli al 6 metteremo clay golem all'11 al 12 metteremo amplify damage che l'abbiamo visto qui e iron maiden che vi mostro è da queste parti eccolo qui iron maiden quest'ultima associata con clay golem butta giù tutti i boss a normal perché si fanno danno da soli diciamo mettendo il nostro golem nel mentre continuiamo a mettere punti su tit fino a quando mettiamo corp explosion al 17 ma anche prima se volete poi successivamente bone spear mettiamo 10-11 punti su questa abilità verso il livello 30-31 potete finalmente respeccare della prima volta e metterete poison nova quando respeccate per prima cosa mettete i punti nelle maledizioni perché 4 punti in low rs vi farci diriteranno molto in early game magari vi sbloccate di nuovo il clay golem e poi mettete tutto nelle sinergie di poison nova e nova stessa a questo punto dopo il primo respec continuate sulla nova e le sinergie per ultimo lo skill tree delle evocazioni quindi iniziate con tit tatata quando rispeccate la prima volta mettete low rs vi sbloccate con clay golem che tanto come vedete vi servirà per arrivare all'iron golem procedete qui e poi dopodiché quando avete finito questo lato che avete messo 4 punti qua quando avete messo qualche punto le sinergie corpo explosion bone armor finalmente finite questo lato benissimo abbiamo visto tutto quello che riguarda l'early game e il late game delle skill per quanto riguarda gli attributi è molto standard come ogni build da caster quindi metteremo la forza necessaria per sbloccare tutto il resto del gear chiaramente qui vedete ho un valore molto basso perché utilizzando l'enigma che mi boosta la forza mi rende facile la vita per tutto il resto dell'attribuzione dei punti quindi poi tra l'altro ho le fire torch l'anni però diciamo che il concetto base è sempre lo stesso iniziamo mettendo i punti in forza finché non ci sblocca piano piano gli altri pezzi del gear che a loro volta ci danno forza e ci sbloccano gli altri quindi in questo caso ho messo tot per sbloccare enigma che mi ha sbloccato tutto non metteremo nulla in destrezza non metteremo nulla in energia metteremo tutto in vitalità allora abbiamo accennato del gear andiamo a vederlo allora è una build che abbiamo detto è costosa ma che al tempo stesso è anche molto versatile in alcuni slot versatile però attenzione non significa che andrete alla stessa efficienza in tutte le aree però la sensazione è molto positiva anche senza pezzi best in slot la build si può creare sia puntando al 125% di faster castrate come vedete qui che sia col 75% di faster castrate che sono gli ultimi due breakpoint del negro nel primo caso 125% puntiamo sul danno ed efficienza in tutte le aree e in questo caso è meglio è meglio il teleport per girare nella rotazione low res nova amplify corp explosion queste quattro diciamo la rotazione principale nel secondo caso di 75% invece diamo una precedenza al magic find partiamo però ecco dall'arma ok si utilizza la death web sochettata dove metteremo un face at rainbow poison quello che vedete lì fucsia quest'arma ci conferisce di base più due a tutte le abilità più due al ramo poison and bone skill ci da mana ci da vita ci after kill ma soprattutto ci da meno 50% poison enemy poison resistance che con il rainbow phase arriva a meno 55 poi chiaramente abbiamo anche il più 5 poison skill damage che è dato sempre dal gioiello in alternativa molto budget abbiamo una bellissima parola runica la white facilissima da fare solo doll yo la mettiamo su una bone wand questa è base però voi magari la potete già trovare con qualcosina in più tipo ha già rollato più 3 a qualcosa bone spear quindi può essere ancora meglio di questa benissimo guardate come rolla più 3 poison più 3 bone armor 4 skeleton mastery 20 faster castrate che sono diciamo i roll principali ed è molto facile da fare l'elmo l'elmo io metto un circlet raro che dà più 2 a tutte le abilità del necromante quindi non ha un ramo specifico e 20% faster castrate cercate di averlo con due socket e in questi due socket potete decidere di mettere o due facet come ho fatto io quindi vedete ho più 10 meno 10 oppure mettete qualcosa del magic find come può essere due topazzi due east oppure in alternativa a questo invece di andare sul più 2 necromancer potete prendere un blue con un ramo specifico e può rollare anche 3 quindi più 3 poison e bone skill e al tempo stesso rolla 20% faster castrate anche in questo caso due facet o due east quello che volete anche qui ho messo due gioielli ed è andato più 10 meno 10 benissimo se no se decidete di andare per il 75% di faster castrate mettete un semplice sciago anche qui east o gioiello poi per quanto riguarda l'amuleto cercate di avere un 220 se andate per i 125 oppure un mara se andate per il 75% l'armor è fondamentale che sia l'enigma per riposizionare ogni volta la nostra armata e il nostro mercenario in alternativa potete mettere una viper magi in questo caso potreste mettere anche lo sciago e puntare ancora il 125% e la viper magi appunto si può anche soccettare e metterete il gioiello oppure potete mettere una rune world la bramble che dà fino al 50% poison skill damage ma per il resto è mediocre visto il costo che ho messur infatti non l'ho proprio montata per mostrarla perché non ne vale la pena in early game fa delle solide stealth tallet per il 25% faster cast rate oppure una smoke neflume per il 50% res i guanti mettete chiaramente i drangol che danno faster cast rate più 25 poison skill damage più 2 le mani di azioni difesa un sacco di resistenza al freddo mentre per quanto riguarda gli stivali allora voi potete mettere i war traveler per il magic find ma vanno bene anche dei sandstorm track anche nella versione etaria e questi ci danno faster run faster hit recovery forza vita ok e poi sono res io nel mio caso ho messo dei 3 res perché comunque non utilizzando loto utilizzando enic ma comunque siamo un po' a corto di resistenze io grazie a questo 3 res diciamo che bene o male sono quasi riuscito a cappare tutte le resistenze è un po' tosto arrivare a 75 a tutti però ce la si fa i i boots è sempre stato uno slot dove potete fare grande affidamento per le resistenze chiaramente voi se volete puntare al magic find metterete dell'altro benissimo la cinta sono l'arachnid mesh per arrivare a 125 o a 75 quindi obbligatoria in entrambi i setup i due anelli su cui puntare sono o due stone of jordan se puntate al 75% oppure una stone of jordan e un anello raro con 10 fcr per i 125 paster castrate oppure potete mettere anche due rari da 10 dipende dall'amuleto come arrollato lo scudo è per forza lo spirit da 35 pensate che già scudo con cinta e guanti vi da già 75% quindi in teoria avreste già concluso il penultimo breakpoint l'avreste già chittato benissimo in alternativa allo spirit se volete potete montare un homunculus con socket quindi ennesimo gioiello per chi vuole puntare alla build con max block in early va bene addirittura anche i tre pezzi di trangul perchè sbloccano meno 25 poison enemy resistance quindi voi fate guanti offende cinta quindi mettete offende e cinta e vedete che tra le varie cose che sblocca col deres altri più 40 guardate qui meno 25 two enemy poison resistance benissimo rimettiamo ecco ho fatto un casino rimettiamo il setup normale allora ok allora sullo swap avete chiaramente un cta colt arms che potete anche utilizzare per pompare i vostri scheletri e un altro spirit ok se state usando homunculus quindi significa che non avete investito 156 punti in forza per poter usare lo spirit monarch quindi non vi conviene usarlo sullo swap potete utilizzare un leadless wall ok che comunque ci da più una tutte le abilità faster cast rate eccetera eccetera e soprattutto richiede appena 58 di forza bene nell'inventario appunto abbiamo la classica torcia abbiamo lanni e poi useremo tutti ciarmoni con più uno poison e buon skill mentre utilizzate i ciarmini per riempire le vostre resistenze e magari vi mettete più punti in vita io grazie a questi qua più o meno me la sono cavata e sono arrivato a quello che avete visto prima niente poi appunto ricordatevi una scorta di insight per il vostro golem e niente allora poi vediamo un attimo il mercenario il mercenario serve l'infinity che anche se non ci serve per poison nova ci torna utile per corpo explosion che fa danni da fuoco e abbiamo detto prima che l'infinity abbasserà dell'85% i danni fatti da questa abilità scusate le resistenze al fuoco dei nemici usate poi una fortitude eterea oppure utilizzate una triceri per il vostro mercenario non c'è differenza quella che preferite mettete in testa mettete un andariel lo sochettate mettete 15 mettete quello che volete una ral un gioiello 15 15 15 attack speed 15 arresto oppure 15 attack speed 40 non set damage a proposito dell'andariel vi dico per quanto riguarda il proc della poison nova non cancella la nostra nova ok sono due diverse e infine l'abilità è might benissimo adesso magari vediamo un po' di gameplay allora la prima cosa da fare chiaramente è su appare e castare i nostri buff ricordatevi di castare bone armor poi dopodichè non abbiamo ancora la nostra armata di scheletri quindi andiamoci a procacciare qualcosa low res nova 2 secondi la potete ricastare ok appena vedete che muore qualcosa fatevi i vostri scheletri al mio livello ne posso fare anche 14 ok mi sbrigo a farli e poi mi faccio anche qualche mucca benissimo allora quindi è sempre lo stesso ragionamento infinity ci aiuta a riposizionarci low res lo mettete su più possibili poi dopodichè amplify e usate il corpo explosion quindi lo ripeterò low res nova amplify explosion allora chiaramente questo è p1 è molto facile proviamo allora ad aumentare la difficoltà ok adesso difficoltà è player's aid quindi come se ci fossero 8 nemici e compagni di squadra cerchiamo di andare in un punto migliore qui l'over res così di più magari appena muore qualcuno ok avete visto ho usato un corpo explosion abbastanza range ok e e niente questo questo è quanto è molto ricordatevi appunto di buon armor di utilizzarlo sempre e di fare la vostra rotation poison nova muore qualcuno amplify damage corpo explosion e così via potete andare anche più veloci di quello che sto facendo come vedete è difficile che io venga colpito siamo molto safe abbiamo proprio un grande muro davanti bene ragazzi allora è tutto per quanto riguarda il poison negro spero vi sia piaciuta la la spiegazione e la guida sentitevi liberi di farmi qualsiasi tipo di domanda sia nei commenti che in privato mi trovate sempre nella community di discord italia di sanctuary italia e ci vediamo alla prossima grazie di tutto ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti